Salve a tutti bentornati al corso completo di Windows 8. Quest'oggi vedremo la maggior parte delle migliorie, quindi tutte le cose che sono state introdotte e le differenze da Windows 7. Siamo nella schermata di desktop e come ho già detto nei precedenti tutorial è sparita la schermata dello start, ovvero l'iconcina dello start. Infatti la barra start è completamente sparita e sostituita da quella metro. Quindi non solo da queste qui ma anche altre invisibili. Infatti che cosa succede? Uno dei problemi di Windows 8 è che se si installa un'applicazione e non c'è l'opzione crea collegamento sul desktop, per esempio io ho installato Office e qua non ci sono icone sul desktop. Quindi cosa fare? Dobbiamo attivare il menu contestuale a destra e andare su ricerca. Fatto questo avremo tutte quante le nostre applicazioni che su Windows 7 stavano nei programmi della barra dello start. Quindi cerchiamo in questo caso Word ed ecco qua Microsoft Word. Questo è il primo sistema per aprirlo ma noi vogliamo per esempio averla sul desktop. Ecco un altro problema di Windows 8. Se noi facciamo tasto destro su questo riquadro ecco qua che ci appaiono le opzioni. Possiamo aggiungerlo alla barra delle applicazioni quindi quella bassa del desktop. Possiamo rimuoverla dallo start, possiamo disinstallarlo, possiamo aprire nuova finestra, eseguire come amministratore, aprire il percorso del file ma non possiamo aggiungerla come collegamento sul desktop. Quindi l'unica soluzione è quella di aprire il percorso file ecco qua e trascinare direttamente l'icona sul desktop per averla. Questo purtroppo è l'unico problema di Windows 8 oppure aggiungerla nella barra dello start ovvero queste se volete averla qua e così non ci sarà nessun problema. Comunque è una cosa molto risolvibile e poi la maggior parte dei programmi hanno l'opzione crea collegamento sul desktop. Detto questo passiamo al pannello di controllo che ovviamente non essendoci più la barra dello start non è più richiamabile in quel metodo ma bisogna tornare ancora nel menu contestuale a destra. E dobbiamo fare impostazioni. Ecco che qua ci sono personalizzazione, info del pc, guida e pannello di controllo. Lo clicchiamo e vediamo che il pannello di controllo è rimasto identico a quello di Windows 7 solo che alcune cose cambiano. Per esempio cosa che rimane uguale è sistema, vedete praticamente è identico, la gestione dei dispositivi, tutto il resto delle cose, rimane uguale tutta la roba che concerne la rete quindi le impostazioni della scheda, non c'è nessun tipo di problema. Cambia per esempio qualcosa come account utente che se voi andate a fare per esempio modifica tipo di account, no scusate questo è rimasto uguale, modifica il mio account, eccolo qua. Si apre un'altra schermata che è praticamente il pannello alla metro, diciamo nello stile metro. Qui ci sono delle cose in più, c'è per esempio utenti come abbiamo detto prima, c'è personalizzazione per cambiare per esempio la schermata di blocco che è quella che avete all'avvio. Possiamo metterne, che so, possiamo mettere questa. Possiamo cambiare la schermata dello start e quindi invece che questa interfaccia possiamo mettere qualcosa di più creativo. Possiamo, mettiamo questo per esempio, possiamo cambiare i colori di sfondo quindi per esempio rosso, mettiamo rosso. Oppure le notifiche, quindi gestire le notifiche delle app, la ricerca, condivisione, generale, comunque tutte cose abbastanza semplici. Vedete non c'è neanche tante cose da spuntare. Abbiamo Windows Update di qua e anche comunque nella versione pannello di controllo classica. Adesso questa la chiudo e torniamo nel nostro pannello di controllo. Allora, come ho detto prima Windows Update è presente anche nella versione pannello di controllo classica, quindi fate conto di avere due pannellini. E così anche tutto il resto delle opzioni. Non le ho nemmeno viste tutte, comunque vedete la maggior parte restano identiche a Windows 7. Un altro trucco per richiamare il pannello di controllo è quello di utilizzare questa, questo trucco, andare in una qualsiasi cartella vostra, andare su questa freccettina e qua ecco che vi appare il pannello di controllo. Oltre a rete, computer, gruppo home, vostro utente eccetera. Quindi un'altra cosa che dobbiamo dire è come aprire le risorse del computer non essendoci più lo start, anche qua dovete usare la cartella sulla barra dello start, quindi questa qua. E purtroppo una volta, se volete aprire più di una non potete ricliccare questa perché come vedete non se ne aprirà una nuova, ma dovrete cliccare un'altra cartella. Per esempio qua ho delle cartelle, ne metto un'altra ed ecco che ho aperto due cartelle. Quindi ecco il grande problema di Windows 8, non potete aprire più cartelle insieme se non usando questi trucchetti. Quindi così avete più cartelle aperte, ovviamente riduce icona, ingrandisce, chiude e rimasto identico poiché la versione desktop rimane il classico Windows 7. Vediamo un'altra differenza adesso. Una cosa fondamentale per me era il fatto che non si potesse interrompere il trasferimento di un file da un hard disk a un'altra, da un CD-ROM all'hard disk senza annullare tutto. Facciamo un esempio. Andiamo su qua, copiamo questa cartella corsi, faccio copia e la copiamo sul desktop. Ora questa è un'altra hard disk e quindi ci sarà la classica schermata di trasferimento. Facciamo incolla. Guardate la differenza. A parte che è cambiato il sistema grafico, qui c'è una percentuale, tutte le varie cose che trasferisce, ma guardate qua. Un'utilissima funzione di still, quindi se blocchiamo, ecco qua. Abbiamo messo in pausa l'operazione. Questa è una cosa che su Windows 7 mancava poiché spesso dovevamo per forza interrompere il trasferimento perché magari avevamo bisogno del processore libero, dovevamo trasferire più importante un'altra cosa prima di questa e quindi sapete benissimo che se trasferiamo più cose insieme si dividono i tempi di trasferimento. Per cui mettere in pausa tutto quello che non ci interessa e mettere in play quello che ci interessa priorizzare. E quindi tornare in un secondo momento a mettere play di nuovo sul trasferimento e a continuarlo. Questa è una grandissima e utilissima funzione di Windows 8. Adesso chiudo, interrompo. E guardiamo il task manager che è un po' cambiato. Allora si attiva sempre con gestione attività col tasto destro sulla barra oppure il classico control alcance solo che come vedete ci sono un po' di più cose da scegliere. Facciamo gestione attività e guardiamo il task manager. Vedete che ci sono molti più dettagli. Possiamo andare in prestazioni, cronologia applicazioni, avvio, utenti, dettagli, servizi. Possiamo cambiare qualche opzione qua dentro. Comunque vedete che ci sono delle opzioni molto ben ordinate. Quindi è possibile conoscere molto bene i dettagli. Vedete quindi che i processi sono stati rinominati con un nome molto più consono a quello che era il classico nome standard di Windows 7 di processi che non si riuscivano nemmeno a riconoscere. In questo modo avremo veramente, così come ha detto Microsoft, un vero pannello di controllo nel task manager. Chiudiamo. Vediamo che la risoluzione dello schermo e il personalizzare è rimasto identico quindi non ci sono differenze da questo punto di vista. Quindi per tutto quello che riguarda l'effettistica e sappiate che hanno tolto l'aero. Quindi come potete vedere tutte quelle opzioni di trasparenza non ci sono. Questo ha il vantaggio di rendere Windows 8 più veloce e quindi con meno fronzoli. Inoltre è possibile fare l'opposto di quello che volevo fare all'inizio ovvero mettere le icone dal desktop alla metro. Quindi se noi prendiamo per esempio After Effects e tasto destro sull'icona e facciamo aggiungi a start poi andiamo su metro, vedremo che l'icona sarà stata inserita, eccola qua, su metro. In questo caso non mi interessa perché avevo già un collegamento ad After Effects quindi faccio tasto destro e faccio rimuovi da start. Attenzione di non disinstallare. Rimuovi da start. Ebbene adesso abbiamo visto tutte le principali differenze, le cose nuove. Ci sono altre piccolezze che magari ancora non conosco per esempio il backup incrementale molto buono di Windows 8 e altre piccolezze che magari adesso ignoro però con questo corso completo voi potrete comunque muovervi perfettamente in Windows 8 e imparare tutte quelle piccolezze che sono rimaste da imparare quando riusciremo a notarle poiché io ho navigato un po', ho smanettato abbastanza non ho trovato altro da sapere. Quindi chi conosce Windows 7 non avrà assolutamente nessun problema a passare a Windows 8 e ad ambientarsi vi assicuro che entro un giorno di utilizzo riuscirete a fare tutto quanto senza nessun problema. Questo corso finisce qua se poi c'è qualche tutorial da fare su cose a parte di Windows 8 le farò però per muovervi Windows 8 il corso finisce qua. Spero di esservi stato utile buona installazione e buon proseguimento.